Benvenuti in appuntamento con Samsung, qui all'Extreme succede ogni giorno, succede alle 12 precise perché voi avrete la possibilità di entrare nel fantastico mondo di Samsung con il vostro annuncio potete lanciare qualsiasi messaggio alle nostre telecamere, vi potete poi rivedere sul sito di Aquafan che è www.aquafan.it Questo messaggio lo dedico a Donato Mi ha messo la carta! Questo messaggio è dedicato a tutti i nemici Questo messaggio è dedicato a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento E' una posta vostra! Quasi altri! Dallina l'ho scato pure! Questo messaggio è dedicato a mio madre Ciao mamma, prepara la festa! Alla grazie! Ciao! Ciao!